ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita voglio farvi questo breve video per mostrarvi un'applicazione che ho acquistato su steam a 5 euro il suo nome è tap translator application dato che c'è sempre questo problema annoso delle traduzioni che non ci sono nei giochi beh vi voglio portare questo video anche se voglio spezzare una lancia riguardo la lingua italiana perché hanno detto e chi dice che comunque non c'è mai la lingua italiana nessun gioco hanno detto che hanno fatto un retro front quindi vuol dire che l'italiano comunque lo considerano per quanto riguarda baldur's gate che sarà in italiano e soprattutto su wasteland 3 che avete visto il mio gameplay magari se non l'avete fatto andatevi a dare un'occhiata il gioco era full eng ma full english ma verrà tradotto in italiano ma quest'inverno non adesso questa applicazione qui è molto interessante perché vi consente di essere di utilizzarla all'interno dei giochi e resta come icona qua in fondo ma con la pressione di shift e contro potete andare a tradurre una zona vedete che lo schermo diventa così selezionate la zona e il programma ve la va a tradurre e traduce in un livello superiore a quello di un google translator qualsiasi ora vi faccio vedere rapidissimamente un gioco gioco che vi avevo già mostrato o che vi mostrerò adesso non so se il gioco lo vedremo breve lo vedremo prima o dopo ma credo prima di questo di questo video siamo su ostranaut abbiamo visto dove sono già arrivato ma voglio iniziare dall'inizio in modo da provare e vedere se effettivamente funziona proviamo un'altra partita dove possiamo andare a creare il nostro personaggio quindi ci muoviamo normalmente andiamo ad aprire la porta e andiamo a creare il nostro personaggio e proviamo la bontà di questo titolo configureremo insieme questa cosa potete vedete potete scegliere le due modalità come vi avevo già detto e poi possiamo andare a vedere se è possibile andare a utilizzare quel gioco o quella scusate quella funzione ora l'unica cosa che questo gioco chiede è l'utilizzo anche se probabilmente cambierà in futuro l'utilizzo di una modalità in finestra del gioco che è questa in modo da non portare via spazio a all'altro infatti adesso magari riusciamo anche a farlo funzionare vediamo se così funziona magari usando la schermata in questo modo infatti infatti qua riusciamo a farlo funzionare poco male e distribuiamo la schermata in questo modo in modo da poterlo fare ok fatto questo proviamo vediamo vedete che l'inizio adesso già cambiato allora proviamo ad andare a tradurre questa zona qui ok questa vediamo che cosa dice elabora e va a tradurre no non non me l'ha fatto del tutto rifacciamola un po meglio facciamo questa zona qua tutta questa zona qui traducimi tutta questa e vediamo come funziona quando tutto è stato detto e fatto demolire nave scavare spacciare è una faticaccia ciò che una volta era pericoloso alla fine diventa monotono questa è solo una fase della tua vita dalla quale guardando indietro non riesce a ricordare alcun evento interessante e la stessa l'ho già giocato questo e diceva effettivamente questo mi aveva aiutato un po col google traduttore l'unica cosa bene di questo particolare periodo nel centro dei settimanali quello che ho iniziato a fare per farcela ok vabbè sì come affronti la noia io faccio il fight club ok vedete che in questo caso magari potrebbe essere un problema dover tradurre tutta questa zona qui però lo facciamo volta per volta iniziamo a tradurre questa parte qui seleziono e me lo traduce guardare le repliche di free fall fighting championship sul tuo portal non fa più per te hai bisogno di colpire qualcuno devi essere colpito basta con questa morte per migli dettagli macina quotidiana bulla ma si vabbè qua tradotto un po così e ora che tu faccia un po di buccato fisico separando il colore dai i dolori dei dolori se la vita farà male allora farà davvero male se vi incontrate nella baria e 4 un fatto che rimane strettamente tra tutti voi non è illegale la ritima non potrebbe fregarsene di meno ma se un numero sufficiente di persone lo scoprisse guarda non sarebbe lo stesso va bene è bello nascondere i lividi è un segreto guardare i tuoi colleghi e sapere si potrei prenderlo in un luogo si odio è questo effettivamente è un inglese parecchio difficile quindi vedete io adesso scelto quella zona lì voglio tradurre il resto vado a selezionare contro le shift e contro il shift trascino di nuovo e vediamo che cosa mi traduce stavolta voglio vedere anche cosa mi traduce qua sono gli imitatori che li fanno entrare si è tradotto un po così vedete potete muoverlo gli idioti di buncia iniziano a prendersi a pugni a vicenda nella piazza di terzo livello del centro commerciale sottolineo che però è utile perché comunque voi avete una controparte questo ovviamente vale per tutti i giochi in cui come qui in questo avete tempo per poter tradurre pensare insomma potete anche selezionare solo una parola però io selezionato questa zona se in un gioco il testo esce sempre in una zona potete premere f3 senza ritirare ogni volta la cosa però è comodo perché comunque lo traducete velocemente ripeto c'è gente c'è amici che giocano a crusader 3 adesso non mi ricordo come si chiama e a pathfinder ma visto che lo usano anche su tyranni anche su disco elisium ma anche se disco elisium non ha più un inglese simile a questo quindi un pochino più complicato però è figo il fatto che non si incasina su questi nomi qui li riconosce come nomi a sé e non li traduce quindi ganymede rimane ganymede non diventa ganymede voglio provare a vedere anche un'altra cosa abbastanza estrema voglio vedere se mi traduce questo riconosce il tasto invia ok perfetto voglio vedere invece questa chat vediamo traduco questa chat qui lo sto usando ripeto in finestra perché il gioco si adatta figo tenerlo qui no 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 e non è non è assolutamente male al suo perché diciamo che per 5 euro può essere veramente veramente figo vogliamo provare con qualcos'altro magari in inglese da leggere non non ce n'è tanto della verità però se è questa pro vi vi piace potremmo magari provare a usarla anche su altri altri titoli proviamo lassù non saprei dire possiamo provare qualcosa di un po più complicato come occupai mars prolog vediamo come funziona adesso qua non funziona dobbiamo cercare di metterlo in finestra però mi non mi piace molto questo discorso sulla finestra però magari giocandolo col doppio schermo riuscirò a farlo anche comunque il gioco il l'applicazione il programma verrà sicuramente migliorato col tempo quindi sarà questione di 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 qualche tempo perché si riesca vediamo intanto comunque la modalità finestra c'è sempre su tutti su tutti i giochi o quasi allora andiamo a vedere la modalità finestra full screen lo tolgo vado in finestra lo trascino in alto in modo che mi venga adattato alla dimensione dello schermo al massimo possiamo eliminare la barra sotto e dirgli di scomparire quando non non la vediamo andiamo a caricare un auto save adesso qua non è bellissimo da vedere il fatto che comunque c'ho la barra sotto ma ripeto potete farla scomparire quando volete però è un modo semplice per poter ecco qua voglio far questo adesso il problema è il fatto che devo trascinare la zona e non me lo fa fare ho selezionato solo una zona no direi che adesso riesco a muoverlo seleziono questa cosa qui vediamo se me la traduce ci mette un attimino devi coltivare devi coltivare piante per ottenere cibo per fare ciò devi prima costruire dispositivi necessari assicurati di avere sempre un incubatore di semi e scaffali idroponici nel tuo hub o in una serra in quest'ultimo mi chiede più risorse ma permette di piantare frutta e verdura nei campi figo veramente bello adesso lui è selezionato quella zona lì quindi premendo effettare andrei a riprendere quella zona lì ma niente voglio vedere che cosa mi fa fare la missione quella lì posso anzi a dire la verità voglio sapere che cos'è questo tasto qui lo seleziono ncc non me lo fa non me lo riconosce tectri vediamo se me lo fa probabilmente vede altre cose insieme no mi tira il culo allora tectri albero tecnico ok niente di che non dovete tirare dentro immagini perché presumo sia uno script piuttosto sensibile infatti anche qua non lo riconosce prova fallita per queste cose però è brutto il fatto che comunque non ci si può muovere con il mouse libero ho dovuto trascinare ok vediamo se me lo fa anche in diagonale seleziono questa scritta qui vediamo se me lo fa no direi che in questo caso non non funziona un po più molto bene vediamo se alt me lo riconosce non si adatta tutto no direi che in questo caso non funziona non è adattabile a tutto non è adattabile a giochi cioè più di tanto come questo quindi giochi molto dinamici ma giochi in cui ci sono testi da leggere che può essere uno stellaris per leggere magari le trame piuttosto che altri titoli adesso faccio control ok alt invio e suonato tutto schermo già non funziona più si adatta diciamo a quei giochi più statici più narrativi quindi in cui avete tempo in cui magari avete qualche dialogo qualche evento qualche strategico non in italiano si potrebbe adattare anche per dire un wasteland adesso io wasteland non credo di averlo più installato però potrebbe adattarsi anche a un gioco del genere posso farlo qui voglio tradurre questo vale anche per i siti internet ovviamente e adesso terza patch grazie mille per il feedback oggi torniamo con un altro aggiornamento c'è in se il il continua camminando il gioco ma il programma è fatto molto molto bene quindi per 5 euro io ho sentito appunto questi amici sono contenti ovvio adesso l'abbiamo un po starpazzato abbiamo provato cose abbastanza estreme abbiamo visto che non funziona con tutto non è perfetto ma se fosse perfetto userebbero questo invece di tradurre i giochi però direi che adesso ho fatto la cazzata di copiare di premere i tasti sbagliati allora voglio seleziono tutto così vediamo se prendendo anche le immagini da problemi si infatti sopra lo riconosce come qualcosa che di 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 molto strano prova a far solo terza patch gli da un po problemi l'immagine sotto no infatti infatti le immagini danno delle dei notevoli problemi vediamo se qua invece si infatti 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 devono avere comunque uno sfondo cosa che non è un problema per quanto riguarda i testi dei giochi di ruolo infatti anche qui senza problemi il problema arriva nel momento in cui c'è un'immagine di sfondo che lo manda in crisi totale quindi non si adatta a tutti i giochi soprattutto quelle interfacce grafiche magari quelle hood che hanno uno sfondo comunque una trasparenza però diciamo che non è assolutamente male ole e anche qui gli da qualche problemino vabbè allora ragazzi questo era tappo translator di videogiochi in tempo quasi reale 5 euro 4,99 quindi se avete quei giochi statici ripeto come strategici giochi come stellaris giochi come ostranauts alla fine funzionava anche piuttosto bene ovvio dovete tradurre piano piano magari può essere più utile un utilizzo non massivo cioè è comodo comodissimo se ve lo leggete tra voi e usate il traduttore per le singole parole per capirle e imparare perché se selezionate tutto e traducete tutto non imparata niente rimango sempre su questo punto utilizzo didattico io mi sono già pronunciato per quanto riguarda le lingue la lingua italiana la lingua inglesa non faccio il figo perché l'inglese non lo so però non sono neanche un bacchettone da dire no lo voglio in italiano o niente l'ho sempre detto questo cioè non c'è bisogno di però è ovvio se io ho un testo me lo leggo non capisco non so che cosa vuol dire boot lo faccio magari adesso non funzionerà nemmeno perché è una cosa un po tirata così ma c'è sempre quell'effetto lì di trasparenza che dà fastidio non so che cosa vuol dire secondo o second patch lo seleziono vedete che e mi dice che cos'è mi sfugge che cos'è on the crusher prova selezionarlo probabilmente quello selezionato un po stretto però sul frantoio non è giusto però si può capire c'è ci va contestualizzato mi dice sul frantoio io adesso provo a selezionare tutto il problema con la modifica delle ma che sul frantoio insomma vabbè però vino da un'idea anche questo improved che sarebbe migliorato e qua non me lo fa perché c'è sempre un effetto trasparenza sotto che gli da fastidio insomma questa è un'analisi dove io vi ho detto l'ho preso 4,99 non lo renderò perché comunque può essere un tool utile per apprendere nuove parole il mio utilizzo sarà principalmente quello potrà capitare di usarlo un pochino più intensamente con alcuni titoli però per me resta una comodità in più piuttosto che magari fare alt tab e andare su google traduttore vedere il significato di alcune parole un pochino più ricercate non sarà un uso totale di traduzione di tutti i giochi visti anche i problemi che ha fatemi sapere che cosa ne pensate e alla prossima e ciao ciao